Padre violento che vi chiave figli che hanno un'età compresa tra i 4 e i 11 anni e che li faceva vivere tra sporcizia, spazzatura, escrementi, mobili distrutti, indumenti a terra, materassi sporchi senza lenzuola. L'uomo di cui non sono state rese note le generalità proprio per tutelare le vittime è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa e dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria. L'episodio si è registrato nella cittadina Ipparina. Della violenza senza senso l'arrestato si vantava al telefono con la propria madre, la nonna dei bambini. Già in manette in un'altra circostanza per avere abusato della moglie era tornato in libertà, volto dunque conosciuto negli ambienti giudiziari. Avrebbe dovuto prendersi cura dei figli considerato il fatto che la moglie straniera era fuggita abbandonandoli. E' stata una telefonata intercettata dagli inquirenti a scorciare il velo sulla triste vicenda. Proprio al telefono l'uomo si vantava di aver picchiato i propri figli. L'ho fatto volare in aria facendolo cadere faccia a terra, l'ho pestato talmente forte che ha pianto tutta la notte. Strazianti inoltre le altre telefonate intercettate dalla polizia. Al telefono erano i bambini a parlare con i nonni. Vieni a prendere, papà non si sveglia, non abbiamo mangiato tutto il giorno. E quando i poliziotti hanno fatto eruzione nella casa Lager hanno trovato una scena quasi surreale. Le immagini fornite dalla polizia lo testimoniano. Alla vista degli agenti l'uomo ha dato in escandescenze per la gravità dei fatti commessi e la delicatezza dell'intera vicenda. Con il coinvolgimento anche dei nonni che non hanno denunciato i fatti, anche se molte volte hanno assistito i piccoli, i minori sono stati fidati agli assistenti sociali del comune di Vittoria e trasferiti in una casa famiglia. Il padre padrone adesso è in carcere.